Musica Ciao a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema, vediamo insieme le notizie di oggi. La splendida cornice lagunare della città di Venezia sta ospitando in questi giorni il Setti The Tourist, thriller diretto da Florian Ankel in uscita negli States a fine anno. La storia parla di Frank Taylor, ignaro turista statunitense, che viene incastrato da un'operazione dell'Interpool per catterare un pericoloso criminale internazionale. Una delle coppie più belle e certamente più serie dello star system cinematografico è senza dubbio quella composta da Johnny Depp e Vanessa Paradis, dodici anni di vita in comune e due figli. A quanto pare i due saranno presse insieme anche sul set di My American Lover di Lars Elmstrom. In American Lover Vanessa Paradis interpreterà la femminista Simone de Beauvoir, mentre Depp sarà il suo amante Nelson Elgrin. E ci voleva Giovanni Veronesi per abbattere lo strapotere di Avatar nelle sale cinematografiche italiane. Il film di James Cameron lascia il primo posto della classifica al botteghino, durante questo primo weekend di programmazione del nuovo film di Giovanni Veronesi. Genitori e figli, agitare bene prima dell'uso. E ora vi lascio con il trailer di oggi. Abbiamo 51 minuti per trasportare i soldi. Oh, 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 che succede adesso? Non lo so! Dai, teni gli occhi ben aperti. Il motore è morto! Senti la puzza? Tu senti la puzza? Puzza di cosa? Hanno messo lo zucchero nel serbatoio. Bomba! Bomba! Mi hai fatto morire! Domani trasporteremo 42 milioni. Tu pensaci. Rischiamo qualche rapina? Dipende da come la vedi. Noi ruberemo quei milioni, dai. Tu, io, Baines, Queen, Palmer e Dobbs. Sei impazzito! Bam! Nessuno si farà male, vero? Te lo prometto. Velocchi, velocchi! C'è qualcuno. Buono, buono. Al posto mio, che avresti fatto? E' uno della polizia! Dai, dove vai? Dai, fermati! Apri questa porta! Poliziatto ferito! Stai bene? Chi fa male? Deve uscire da quel furgone. Tu pensaci, Tai. Siamo brave persone. Tutte brave persone. Per oggi è tutto. Arrivederci alla prossima puntata di Anteprima Cinema. Anteprima Cinema Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS